Gabriele Muccino Torna finalmente in Italia Per presentare il suo film americano O meglio, Italo-americano Quello che so sull'amore Innanzitutto, visto che ci sono state molte discussioni Sul tipo di film Che è Come lo definiresti tu? Semplicemente Una comedia drammatica È un film che tra l'altro Ricorda molto I miei film italiani Che non rientrano in un genere Specifico Gli americani sono Sessionati Nella fase di marketing Nel catalogare E collocare un film In un certo genere Specifico E ogni genere ha un tipo diverso di pubblico Per cui se sbagli il genere E il pubblico che viene Trova un film diverso Da quello che si aspettavano E che tu gli hai venduto Può creare Una disattesa E questo vale sia per il pubblico che per la critica in America Che sono entrambi sensibili Molto sensibili Al modo in cui il film viene venduto E a che tipo di genere il film possa appartenere Perché ogni genere ha una formula in qualche modo Che crea un'aspettativa di un certo tipo Il genere più largo Più ampio Che abbia più margini in assoluto È il genere drammatico Perché non vuol dire niente Un film drammatico è tutto e niente Per cui il pubblico che va a vedere film drammatici Come i film che ho fatto con Will Smith O come può essere The King's Speech Eccetera È un pubblico che vuole nutrirsi del film Cioè che vuole realmente guardare un film E non vuole essere solamente intrattenuto Quasi tutti gli altri tipi di film A parte forse una certa fantascienza Quello che fa Ridley Scott Che di fatto non è americano Ma comunque quasi tutti gli altri generi Sono generi che richiamano un pubblico Che vuole essere intrattenuto E anche non trasportato realmente Ed emotivamente dal film Ecco una curiosità Sullo sfondo del film c'è il mondo del calcio Come mai avendolo girato in America Non hai pensato per esempio ad uno sport come il baseball Piuttosto che al calcio Perché il baseball è uno sport molto molto complicato da capire Io ho visto una partita E non ha delle regole per noi incomprensibili Per cui avrebbe reso il film molto meno fruibile In tutto il resto del mondo Seconda cosa Il film non è certo fin sul calcio È un film che ha tre scene di calcio Tre reali scene In cui si vedono bambini che giocano a calcio Ma il film parla proprio Parla l'altro Il calcio è un esperiente per avvicinare Un padre ha un figlio Che ha in qualche modo trascurato Ma il film parla di riavvicinamento Di amore Di valori Di quella che poi è anche la routine E la noia Della provincia profonda americana Il film parla di molte cose E capita anche che ci siano Tre partite di calcio Ma non è un film su calcio Senti, tu adesso sono anni che abiti in America Per parafrasare il titolo del tuo film Quello che sai su Hollywood Che cos'è? Che cosa hai imparato? Se ci potessi riassumere Hollywood è una grandissima arena È un posto dove Il più forte prevale Non è un posto per gente debole È un posto dove la competitività è fortissima Dove ti incontri Ti scontri Quindi neanche con i registi più importanti E grossi del mondo Dove i progetti non sono tantissimi I progetti che un regista europeo Sogna di fare Non sono così tanti E quei pochi vengono litigati Da registi con i quali ti deve competere Quindi quello che ho imparato È che c'è una competizione feroce Ma c'è anche una grandissima soddisfazione Quando sei su un set E lavori con dei grandi star Perché senti una grandissima professionalità Una grandissima abilità Una grandissima capacità camaleontica Dell'interpretare i personaggi Per cui per un regista Anche fare un film che viaggia intorno al mondo Anziché solo in un paese Come film in lingua italiana È comunque una sfida importante Che certo non lascia impassibili Quindi poi detto ciò Il giro me lo sono fatto Me lo sono goduto E tornare in Italia Non mi dispiacerebbe affatto Quindi il tuo prossimo film Lo vedremo in Italia O negli Stati Uniti? No lo vedremo non lo so Perché lo vedremo ovunque Ma lo faremo non so dove Il prossimo film Mi trovo in quel momento Proprio nodale In cui non so qual sarà il mio prossimo lavoro Senti per finire Hai detto che questo film È un film sulla crescita Non solo sull'amore Tu crescendo Che cosa hai imparato sull'amore? Ho imparato che ha bisogno di molte cure Di molte attenzioni E soprattutto ha bisogno di essere in due Perché possa crescere sano Gli errori si commettono sempre in due E così la fortificazione di una relazione Va fatta insieme Essere soli non basta È qualcosa di troppo fuggievole ed effimero Il sentimento dell'amore Se non viene fortificato da entrambi Ed è comunque Cioè pensare all'amore Come una relazione di infatuzione Insomma è una cosa Ma pensare a una relazione Che dura gli anni O tutta la vita Pensare al matrimonio Insomma è Bisogna affrontarlo Come un maratoneta Affronta una maratona Cioè non è il centometrista Insomma ci sono varie fasi Ed è una gara di resistenza Di abilità Di pazienza Di attitudine Eccetera 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 Eccetera